Ciao fans! Ciao fans! Allora, perché siamo qua oggi? Siamo qua oggi perché questa è l'intro della quarta stagione, ovvero... Cosa è successo a gennaio 2021? Allora, abbiamo comprato una nuova moto, eh! Perché abbiamo? Perché è parte della famiglia. Ah, ok. E poi? L'abbiamo usato tutto l'anno e continuate a chiederci, ma i video con la 09? Adesso arrivano, arrivano in questi tanto attesi video, arrivano e accantoniamo quelli con il Duke 390. Ti devo correggere però. Non li accantoniamo, li metteremo lo stesso. Poi ti vorrei già un commento dove dicono che ti contraddico sempre, perché queste cose non sono preparate e quindi ognuno dice quello che gli viene in mente, in realtà però dietro c'è un filo conduttore che mi ignora. Perché io non so cosa sia. Vabbè. Comunque, in realtà, i video con la 09 non sono ancora usciti, tranne quello. Dove siamo andati a prendere il concessionario? Bene, siamo arrivati in concessionario a Lodi e adesso entriamo a prendere la moto nuova. Sei emozionato? In realtà non tanto, sono più preoccupato per il tragitto da qua a casa, su strade dove ho già visto che è pieno di autovelox. Però, diciamo che come inizio non è male. Ci siamo? Guarda lì, guarda che figa! Eh, fai strada. Quello dove siamo andati allo spluga a farla vedere finita, ti ricordi? Sì. Mi hai portato tu. Flashback. Mi hai portato. Ti ricordi quello dove siamo andati allo splunge in one Poi è uscito quello dove abbiamo montato le borse laterali Insieme a Lorenzo di Supremacy E poi basta Però l'abbiamo usato tutta l'estate e non c'è neanche un video Quindi è l'ora di buttarli fuori Esatto, il motivo qual è? Il motivo qual è? Perché non ci sono i video della 09 Attualmente su Youtube Perché ce n'erano troppi di quelli vecchi Quindi avevo dovuto fare Buttarli fuori in ordine Pian piano E finirli No? Non troppo, finirli quasi In realtà sì, nel senso Il canale come è nato? Come Diario di Bordo In cui comunque è un ricordo anche per noi Cioè è un ricordo soprattutto per noi Quindi abbiamo ancora dei giri con i 390 che abbiamo filmato Che sono dei ricordi per noi E cosa facciamo? Cancelliamo i file e cancelliamo il ricordo Cioè potremmo anche farlo però non mi va sinceramente Al di là del fatto che registrare in giro ci vuole tempo È comunque una rottura Cioè in sé il fatto di cambiare le batterie eccetera Quindi poi adesso che l'hai fatto cancelliamo i file No E poi abbiamo pochi video con la 09 Di cui però due settimane in Sardegna In cui abbiamo filmato abbastanza Sempre, anche quando ero in acqua Però vabbè lì non è in moto Vabbè Comunque faremo dei video anche con quello Perciò il punto è Abbiamo ancora dei video con il 390 Che faremo uscire prossimamente Intanto però esordiamo con la quarta stagione Che sarà quella con i video della 09 Principalmente in Sardegna Quindi dal 1 gennaio o dal 2 gennaio Mi ricordo che quando l'ho messo Comunque dal 2022 usciranno i video con la 09 Poi l'altro motivo in realtà è che ci sono tempi tecnici Per fare i loghi Le intro nuove Cioè c'è dietro comunque un lavoro Che non coinvolge solo noi Ma anche altre persone Li abbiamo finiti comunque a fine novembre Quindi non è neanche da tantissimo Che abbiamo tutto il materiale per fare i video nuovi Esatto, ci vuole un po' di pazienza Perciò adesso ci siamo Non so neanche quando pubblicherò questo video sinceramente Ma comunque Bene, Ruidan di Tamburi Questo mese, quindi dicembre 2021 E poi da inizissimo gennaio Devo decidere il giorno 2022 Usciranno i video con la 09 Buona visione Buona visione da che? Così gli facciamo vedere? Gli facciamo vedere l'intro della quarta stagione? Esatto Che è uguale a quello della terza Ma cambiano i loghi Uscirà accostato un banner Non ci sono i banner Ah no è vero ci sono Ah no è vero Visto che siamo ancora nelle feste di Natale Ricordiamogli Uscirà accostato un banner Non so se avete notato Il banner che è uscito Esatto Questo bellissimo banner Con il link in descrizione Dello shop nostro The Moon Riders Con tantissime cose Da che potete regalare Ai vostri cari amici animali E persone I vostri cari amici animali sembra E persone Ok Quindi cliccate qua E fate donazioni Grazie Perché? Perché noi possiamo poi reinvestire No pensavo che dicessi perché sono povera Perché io so E anche Cioè sotto sotto Perché comunque sono povera Quindi ho bisogno Necessito Tutto ricavato dalle magliette Viene devoluto all'una Esatto Come i pacchi di fornitori Vi lasciamo l'intro della quarta stagione E aspettate domani dopo domani Per vedere i nuovi video Ciao fans Entusiasmo però mi raccomando Perché io trovo veramente un lavoro assurdo E ci vuole entusiasmo adesso Sono le 5.25 5 del mattino Siamo stra in ritardo Quindi non filmiamo più niente Ci vediamo direttamente a Genova Con il teletrasporto Teletrasporto Many hours later Dobbiamo far sentire avvicinato Che siamo arrivati Anche perché siamo arrivati per davvero Wow One week later Ok vai Adesso Siamo ufficialmente fuori da tutto Iniziano le statali con le curve Perfetto Spero di non trovare la sabbia del mare Sulla strada Ecco speriamo di no E neanche le pecore dietro Non curva magari Senti che puzza di pecorino Qualche pastore Che non si è lavato i piedi Ah guarda qua le case distrutte È spettrale Sì Anche pericoloso da passarci Questa sia molto stabile Ah guardala su tutte le case Bene fans abbiamo preso La stradina che scende giù per Gairovecchia Sì quando mi ricapita di bucare la gomma Comunque fans oggi siamo andati al Lido di Orri È veramente bello Luna Colombo si riveste Sì perché è una scattata Comunque hanno detto che se andiamo in farmacia C'è anche la 70 Quella per i bimbi È veramente bello